Un paio di volte, avanza ancora la palla verso Amantino, lo scatto di Amantino, siete in 4 contro 3, il tocco ora... Ma vedi Baruzzo, te prego, ma non fa ste cose Baru, tu dai la palla, dalla la palla, non tirare. Ho provato un tiro a Baruzzo, date in braccio a una signora che stava affacciata alla finestra di di fronte.